Per primo sono molto contento che siamo qua, per adesso penso che ci sono trovate quattro più forti squadre in Polonia e comunque vincere la Coppa sarebbe una cosa grande. È molto bello che giochiamo qua a Cracovia dove c'è il più grande Polazzetto in Polonia e sappiamo anche che ci saranno tanti tifosi e che il Polazzetto sarà pieno quindi mi aspetto 10.000 persone, mi aspetto due gare belle, due semifinali molto belli e comunque sì, tutti che siamo qua vogliamo vincere la Coppa. Chi vince vedremo domenica. Tutte le squadre che sono qua sono arrivate proprio per vincere la Coppa. Il nostro club in storia di tutta la storia non ha vinto mai quindi sarebbe veramente una cosa molto bella ma sappiamo che sarà molto difficile. Ma fino alla fine è molto importante di credere che finché la gara non si finisce si sempre può vincere. Sì, domani con Zaxa già abbiamo giocato in due settimane fa Champions League. Loro erano più bravi di noi, hanno giocato meglio quindi sono passati avanti. Noi abbiamo avuto i nostri problemi, credo che domani siamo riusciti a risolvere i nostri problemi e saremo pronti per la gara molto difficile.